Siamo in compagnia del vicepresidente del gruppo servizi innovativi e tecnologici di Confindustria Salerno, nonché componente di giunta di Confindustria Salerno e organizzatore del premio Best Practice che ci ospita in queste due giorni. Benvenuto Edoardo Gisolfi. Grazie. Dottor Gisolfi, cosa ci racconta di questa sesta edizione del premio? Beh, innanzitutto qualche numero. Quest'anno i progetti giunti al premio sono circa 107, 54 sulla sessione Best Practice e 53 sulla sezione Upstart, la nuova sessione che abbiamo introdotto quest'anno in memoria del nostro collega Paolo Traci. Quindi grande successo, specialmente in considerazione del fatto che solo il 50% dei progetti provengono dalla regione Campania, mentre oltre il 50% da tutto il resto d'Italia, quindi da Trieste sino a Palermo. Anche la qualità dei progetti, devo dire, rispetto alle scorse edizioni è risultata di buon livello, per non dire in alcuni casi di ottimo livello. Quello che c'è da sottolineare è che un'organizzazione, questa organizzazione del premio, come ogni anno, dura appunto 12 mesi, perché l'anno scorso ci eravamo lasciati di questi tempi con il bilancio finale della quinta edizione e poche settimane dopo è partito il pensiero all'edizione 2012. Sì, anche noi come gruppo Servizi Innovativi di Confindustria Salerno ormai animiamo questo premio da sei anni e facendolo tra l'altro non per mestiere perché ognuno ha la propria azienda, ma lo facciamo appunto con uno spirito associativo, sottraendo molto spesso anche tempo agli aziende e alle famiglie. Cominciamo a lavorarci, diciamo già da settembre dopo l'estate comincieremo subito a mettere in cantiere l'edizione del prossimo anno, quindi è un premio che richiede molto impegno e lavoro, ma lo facciamo con piacere perché vedere l'entusiasmo di molti colleghi imprenditori che vengono a presentare qui i loro progetti, poi ci ripaga di tutti gli sforzi fatti. Volendo dare la nota distintiva di questa edizione rispetto a quella dell'anno scorso, dove puntiamo l'accento? La nota distintiva è appunto la nuova sessione, la upstart, quella dedicata a Paolo Traci, perché a differenza degli scorsi anni con questa sessione non andiamo solo a valutare idee innovative già presenti sul mercato, quindi idee già realizzate, ma anche idee di giovani che vogliono affacciarsi all'imprenditoria, quindi presentano delle idee valide che potrebbero fra qualche mese essere cantierabili, diciamo, messe sul mercato. Benissimo, ringrazio il dottor Gisolfi e che dire, arrivederci alla prossima edizione del premio. A dopo con il prossimo ospite.